Pronta! Sì, pronta! Chi è che parla al telefono? Salve, sono Lorella, consulente esperta della telefonia e mi ha contatto per farle qualche semplice domanda e lei attualmente quante SIM utilizza? Io... Se ha una scheda, due, quante ne usa? Due, della tre. Ah, due schede, quindi due SIM. Tre schede della due e due schede della tre. Ah, quindi è un cliente tre, lei? No, della team. Lei ha detto che ha una scheda della tre. Una Wind e l'altra Vodafone. Ah, quindi una tre e l'altra Vodafone. E di solito quanto spende al mese? Di solito... Tra le due schede. Tra le due schede più o meno... No, forse di più. No, meno di coso. No, no, in tutto. Tra Vodafone e... Allora, lei ha una scheda della... Fastweb. Della tre e una della Vodafone, ho detto, vero? E della Fastweb anche. Ah, tre SIM a lei, quindi? Due, una della Vodafone e una Fastwears. E una della Fastweb. Sì, della Wind. Tre SIM, quindi... Che prima era Wind, poi ho due SIM. Vodafone e l'altra Fastwears. Allora, mi faccia capire meglio. Ha una scheda della tre, una della Vodafone... E una di Poste Mobili, che poi è passata a tre. E una? E adesso è Fastweb. E adesso è Fastweb. Cioè, quella della tre è passata a Fastweb? Sì, che prima era Poste Mobili. Poi tre, e poi è passata a Fastweb. Sì, e adesso Vodafone. C'erano due. Allora, attualmente lei quanto SIM ha? Due oppure tre? Due. Due. Una e com'è attualmente? Piccolina. Certe volte la perdo. Una è Vodafone. Sì. Una è Vodafone, giusto? Sì. Ora, ecco, e l'altra? L'altra forse adesso è British Telecom. Perché ho passato da Fastweb a tre. Sì. A TIM allora, no, tre, TIM. Windair. Ascolti, quanto è la sua spesa mensile? Durante il mese, quanto spende tra tutte e due? Ma circa 30 denari. 30? 30 pesetas. 40 euro al mese? Più di 20 fiorini. Anche di più. Quindi supera pure dei 50 euro al mese. Lei è un'azienda, esatto, ha la partita IVA? No, no. Ah, è un privato? Sì, è una parrocchia. Ah, è una parrocchia. Sì. Ah, quindi è una parrocchia. Sì, è la parrocchia di Santa Maria Convinta. Ma non è una partita IVA. Ecco, allora lei... Non è una partita IVA perché noi non paghiamo l'IVA. Perché facciamo esorcismi. No, no. Neanche in oratorio non paghiamo l'IVA. Sì, però rientra, diciamo, negli sgravi fiscali. No, perché noi ci dà fastidio rientrare negli sgravi fiscalizzati. Allora, lei mi sta dicendo che spende più di 50 euro, intorno ai 50 euro più o meno, vero? Quindi 60, 76 terzi al mese. 70, arriva a 70 euro pure? Anche meno. 60, facciamo 60, una via di mezzo. Facciamo 45. Entrambe però? Facciamo 20. 45? 75. 45 euro. Perché una è ricaricata. Una è ricaricata e l'altra... Ascolti, ma lei ha... Nella parrocchia ha la linea fissa pure? Sì. Ha pure la linea fissa? Sì. Quindi, la linea fissa quanto le costa mensilmente? Fastweb. A Fastweb. Fastweb. A Fastweb. Sì, e quanto le costa mensilmente con Fastweb? Credo sulle 30 dracme al mese, più o meno. 25 forse. Sì. 25, però che cosa? Cioè, che contenuti ha? C'è Infernet. Diciamo, la DSL? Sì, c'è Infernet. C'è l'AIDSR. Stato con la DSL? Sì, c'è l'abilitazione. Ci sono i film. C'è tutto. Ah, avete pure i film, tutto quanto? Sì, anche quelli sporchi. Con 25 euro? Vedete tutto film? Avete il pacchetto Sky? Qualcosa del genere? Pacchetto Sprayler. Sì. Con 25 euro al mese. Avete Sky? Incluso nelle 25 euro? Abbiamo il pacchetto Spruzza Spray. Adesso dovrei mandare il Chirichetto a prendere le bollette perché non sono sicura. Ah, ho capito. Ascolti, comunque, come ADSL, cioè come fisso, però per quanto riguarda il... Lei, quante giga ha? 45 euro ha detto che spende per due sim, vero? Forse anche meno. 45 euro. Forse anche di più. Anche di più. Sì, forse anche meno. Cioè, può fare una... Cioè, le offre una Meshare con 15 giga al costo, con 15 giga, minuti limitati, chiamati limitati in Italia e all'estero, 30 euro. Solo? Quindi, nella FIM ha tutto. Ma c'è anche il pacchetto... Cosa ne pensa? C'è anche il pacchetto Wispots. Non è costoso. Signorina, mi sente? Allora, mi dica. C'è l'ha il pacchetto Wispots? Allora, sì. C'è anche il pacchetto... C'è anche il pacchetto Wispots. Wispot. Wink Slykes. Con la 3. C'è anche il pacchetto che si può... Ah, quello con la 3? Sì, sì, quello con la 3. Però con il Wispot. Un attimo le... Allora, un attimo che chiedo, eh. Chiedo se c'è il pacchetto Wispot. Sì. Sì, sì. Un attimo che chiedo alla mia responsabile. Mi scusi, come si chiama il pacchetto della 3? Wispots. Allora, mi fa lo spelling lettera per lettera? Wispot. 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 Ah, Wispot 3 mi sta dicendo. Wispot 3. Il pacchetto... Forse sì. Allora, il pacchetto tra FISSO e la SIM, quello dice lei... Con Skys. Con Skys. Skys. Ah, il pacchetto con Skys. Sì. Con Skys. No, non l'abbiamo. Scusi, aspetti che chiedo al mio responsabile. Scusi Luca, il pacchetto con Skys c'è al... No, non l'abbiamo. La PAS, ma lui ce l'ha già la PAS web con Skys? Sul FISSO, il pacchetto. Sul FISSO. La Sky. Io ce l'ho il pacchetto. E' 25 euro. Piccolo ma ce l'ho. Qual è un PAS web? PAS web. Piccolo ha detto ma ce l'ha. PAS web. PAS web. No, è una parrocchia. È una parrocchia sempre. Allora, allora, questa sera ho finito di lavorare. Io la richiamo, ci risentiamo, va bene? Come si chiama lei, gentilmente, il suo nome? Don Barbano. La faccio un attimo, eh? Sì. Don di nome e Barbano di cognome. Allora, allora, Barbano? Don Barbano, con la G finale. Ah, Don Barbano, mi scusi Don. Don Barbano, dalla parrocchia di... La sento? Parrocchia Santa Maria della Fusoliera. Parrocchia di Santa Maria... Della Fusoliera. Allora, io la trovo, Don Barbano, su questo numero. Sì, ma mi chiami pure Domba. 3, 4, 8, giusto? Sì. Va bene? Va bene. Allora, se la richiamo domani pomeriggio, le va bene verso le 15? Come orario? Facciamo verso le 3 domani pomeriggio. Le 3? Sì, le 3, le 15. Va bene? Sì. Domani, Don Barbano la richiamo io, alle 15. Don Barbano, sì. Va bene? Buonasera. Sì, sì. Don Barbano. Ciao, buonasera signor Don Barbato. Ciao, arrivederci. Salve.